Oggi è il 18 novembre. 1991. Dopo un lungo assedio, l'armata popolare jugoslava entra a Vukovar. 1959. Presentato Ben Hur in anteprima mondiale. 1978. Guyana francese. Jim Jones guida la sua setta al suicidio. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi vi parlo di padre Michele Piccirillo, francescano e archeologo.